Camilla Patrizia Carlucci, detta Millie, è una conduttrice televisiva, autrice televisiva ed ex attrice italiana Cara Iva, ha scritto Millie sui social. Non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero. A ballando con le stelle, Iva citava molto spesso il suo pippi. Il compagno storico fu anche il ballerino che si presentò sul palco, con Iva nella serata speciale dedicata ai balli, con i familiari dei protagonisti del dance show. Molti fan del programma ricordano con tenerezza quel momento in cui la cantante abbracciò il suo amato sul palco e Iva Zanicki ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2022 danzando in coppia con Samuel Peron. La Zanicki riuscì a imporsi come una delle concorrenti più amate dell'edizione. E non solo per le proprie esibizioni, non sempre perfette dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per il carisma, l'energia vitale e la simpatia. Durante lo show nel 2022, Iva ballò anche, con Fausto, il suo compagno di una vita. Anche se i due non erano ufficialmente sposati, Iva lo presentò come suo marito. I due improvvisarono un breve balletto, dando vita a un momento molto dolce, delicato e divertente. Grazie. 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 Grazie.